Santa Barbara alle porte, ma la Giunta Petrangeli continua a discutere sull'allocazione delle fiere. Litigano da due anni e mezzo su tutto, ma l'area espositiva delle bancarelle, in modo particolare, manda in fibrillazione alcuni assessori. Il risultato è che gli ambulanti ancora non sanno dove potranno essere piazzati i loro banchi. Sono due anni che sindaco ed assessori fanno al rimpiattino sulla nostra pelle, dicono alcuni commercianti. Qui c'è da decidere in fretta perché non c'è soltanto la fiera di Santa Barbara, ma subito Santa Lucia, poi Sant'Antonio e altre belle fiere si potrebbero organizzare. Molti di noi chiedono il centro storico, altri l'area della Giorlandina. Qui c'è una crisi economica devastante. L'importante è che si decida e che si promuovano gli eventi.